Che cos'è il tema? Prima di tutto chiedersi qual è la cosa importante che vogliamo dire agli altri. Non dobbiamo demolire più niente. Aggiungiamo il meno possibile. L'unica possibilità che tu hai è di produrre stupore. L'esagerazione a parte della regola generale. L'architettura non può stare in disparte. L'architettura siamo tutti noi. Noi abbiamo la necessità di essere aperti a integrare le culture del mondo nella nostra progettazione.